Oh, voi state scherzando, vero? Se non becco l'acqua muoio. Oggi anch'io ho deciso di fare il Cartoon Cat, ok? Il Cartoon Cat. Questo video l'avevo visto da Revealed Gaming e appunto volevo provarlo anch'io. Vi lascio il link del suo video in descrizione e andate a vederlo perché è molto bello. Allora, anche io però ora voglio provare a fare questo Cartoon Cat, no? A trovare questo Cartoon Cat in questo mondo bellissimo. Allora, io ho già saltato l'introduzione, no? Diciamo la parte dove metto il Seed. E sono già qua nel gioco. Allora, io direi di andare innanzitutto a prendere delle risorse perché già non ne abbiamo. Dobbiamo stare anche attenti, anche perché poi dopo andremo sicuramente a trovare, diciamo, un'altra casa per proteggerci. Perché è molto importante cercare di proteggersi. Comunque, io veramente non so dove andare a trovare questa miniera. Mmm, mmm, non so. Mannaggia, mannaggia. Cosa? Ehi, avete visto là? Cos'è stato? Cosa sta succedendo? Ma io sto vedendo... Scusatemi, no, avevo visto qualcosa di... Eeeh! Oh mio Dio! No, 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 no! Avete visto quel rumore? Avete visto quel rumore? No! Avete visto il gatto, volevo dire, mannaggia! Avete sentito anche il rumore? No, no, no. Oh, mi sta seguendo, mi sta seguendo. No, 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 dobbiamo andare... Dove... Cos'è questa cosa? Cosa? No, 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 scusatemi, ma cos'è questo mondo? Scusatemi, cos'è questo mondo? No, 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 cos'è? Cosa sono? No, no, donisiani, no, 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 no. Allora, non ci stiamo capendo, ora stiamo fermi un attimo perché Allora, cerchiamo di tranquillizzarci perché qua io mi sto cagando addosso letteralmente Allora, perché ci sono degli esserini piccoli che stanno camminando? Questo doveva essere il mondo di Cartoon Cat Perché ci sono quei cosini piccoli? Oh mio Dio, io non so che razza di mondo è questo Non lo voglio sapere, voglio solamente trovare una miniera e cercare di proteggerci Perché ci servono materiali per sopravvivere Ci servono assolutamente tanti, tanti materiali Altrimenti qua non ne usciamo fuori, davvero Però se io trovo una caverna è un bene, altrimenti non lo è Eh, scusatemi Ma avete sentito che rumore orribile stava facendo? Ma avete sentito? Cioè, faceva schifo, sembrava tipo una specie di creatura Orribile Io spero che non succederà mai più questa cosa Anche perché potrei spaventarmi molto Ok, finalmente sembra che ho trovato qualcosa Sto scendo da questa parte E si sta già anche facendo notte E io però attivo la mia super luminosità Perché non voglio che voi vediate tutto buio Perché sennò poi dopo non è, non è bello Non è assolutamente bello Allora Qua in teoria ci dovrebbero essere Diciamo del carbone Ci dovrebbe essere sicuramente anche del ferro Che è una cosa molto importante Se troviamo i diamanti è ancora meglio ma non credo E poi non è che siamo qua a scavare tanto Io voglio solamente trovare Delle risorse base Ecco, tipo il ferro molto buono Per poter sopravvivere Perché comunque ci serve Almeno un'armatura Perché Quello sembrava Molto aggressivo il Cartoon Cat E anche gli altri suoi Cosi piccolini Poi non so se sono suoi Oppure di qualcos'altro Di qualche Boh Altra creatura Entità Io non so Perché in questo mondo Secondo me ci sono 20 entità Io veramente non Non so Non me lo spiego Sinceramente Allora Allora Le torce le prendo Perché non voglio stare senza torcia Anche se Qua si vede tutto però È sempre meglio Prendere un po' di carbone Perché Appunto Voi sapete che in Minecraft Comunque il carbone è sempre importante Per fare tutto Poi qua Magari del ferro c'è Ecco tipo qua Sì assolutamente sì Perfetto Altro ferro Bene 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 Allora Doviamo stare attenti Perché Io non so Che cosa potrebbe succedere Oh No 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 Avete sentito Avete sentito vero Avete sentito Cioè non è possibile Altrimenti Cioè cosa Caspita è stata Quella roba Ma Veramente Non so Allora Poi Io stavo schiacciando pure la cipers No 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 Avete visto Dunisiani No per favore Porca miseria Ma perché Perché Io avevo letto che Eccolo Eccolo è là Porca miseria Avevo letto che Il cartoon Che C'ha visti C'ha visti C'ha visti Allora Dobbiamo stare Dobbiamo stare pronti A scappare Mi raccomando Stiamo pronti Allora Non è che possiamo restare qua Anche perché Poi quella caverna è chiusa Eccoci 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 E là Scappiamo Veloce 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 Via 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 Assolutamente Via 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 E forse viene bloccato dall'acqua Questa è una cosa buona L'acqua Non so dove andare Aiuto Da questa parte Forse Dai 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 Oh 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 No 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 Stiamo attenti Stiamo attenti perché Questo qua ci potrebbe ammazzare Da un momento all'altro Dobbiamo stare attentissimi Ma cosa ci faceva qua Prima era dall'altra parte Prima era Oh mio dio Mi sta seguendo Mi sta seguendo Io mi sto spaventando molto Prima era dall'altra parte Era dall'altra parte Oh mio dio No mi sto spaventando Dov'è finito? Dov'è finito? Dov'è finito? Scusate Non vorrei dire Però Potremmo essere davvero In grave pericolo Perché se ci si presenta Di nuovo davanti Questo qua Ci ammazza Questa è davvero Arrivata La fine Io ho visto qualcosa Forse Forse ho le allucinazioni In questo momento Cerchiamo Cerchiamo di stare calmi Io sto sentendo rumori Potrebbero essere No Di nuovo Queste schifose creature Ma cosa sono? Che cosa sono? Dunisiani No 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 Ci sono Ci sono picchi No Allora Fermi Siamo calmi Perché qua Stiamo degenerando assolutamente Ma cosa sono queste creature? Che cosa dovrebbero Essere queste cose? Allora Stiamo qua Sull'albero Non arrivano qua Vero Non arrivano qua Non arrivano qua Vero Stai No 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 Stai scherzando Stai scherzando Stai scherzando Stai scherzando Vero No No Via 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 per sempre Allora Dobbiamo ritornare al villaggio Perché altrimenti qua Non ne usciamo più fuori Dobbiamo Dobbiamo entrare in una casa E stare al protetto Perché se no Poi dopo moriamo E qua non si nota nemmeno velocemente Perché io sono abituato Nelle più nuove versioni Perché Allora siamo nella 1.12.2 Dovemmo cercare di stare molto attenti Perché se no veramente Cioè che caspita facciamo dopo Se ci uccide il cat Cioè non è possibile moriamo Scusate Cosa caspita è finito È successo Ehi 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 Cosa sta succedendo No 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 Ma Per Dunisiani No No Questa cosa No Non è Non è Non è possibile Non è possibile Quanto dura ancora No scusate Scusate dove mi sta portando Scusate No 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 Ma che Cioè stai scherzando Ma cosa sta succedendo Scusatemi Non è Non è possibile Cioè cosa Cosa Oh Voi state State scherzando vero Se non becco l'acqua muoio Oh mio dio Cosa cavolo È stata Quella cosa Cosa cavolo È stata Quella cosa Io boh Non Non me lo spiego Non me lo spiego Davvero Cioè Non ho più parole Però almeno abbiamo trovato il villaggio Allora Questo è stato anche un Bene alla fine Non è che è stato lui Che ci ha voluto Tipo far trovare il villaggio Per fare È qua È qua È qua L'avete visto È qua È incastrato No 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 Niente Non è possibile Non è possibile Ci sei Teletrasportato di nuovo Da me Cioè Da me Di nuovo da me Io Non so cosa Cosa fare Però Entro qua dentro Spacchiamo anche questa Questo pezzo di terra Così almeno Non riesce a venire Si spera Allora Dunisiani Questa è stata Una cosa Veramente Veramente Troppo Troppo Non so come definirla Ok Cioè ci sono Creature Piccole Molto strane Ci sono Il cartoon C'è il cartoon cat In questo mondo Non so se vi rendete conto Ci sono cose Veramente Inspiegabili Io Mi sto spaventando Ok Comunque Dunisiani Grazie per aver guardato Questo video Se siete arrivati Fino a questo punto del video Mi raccomando Commentate con Evidenziatore Se volete Perché così Io vi do il cuoricino E fatemi anche sapere Cosa ne pensate Di questo mondo Ok Con tutte queste entità Fatemelo sapere Perché è importantissima Questa cosa E noi Ci rivediamo Al prossimo video E con lo schiocco magico Di Dunis Prima che finisca Male il video Ci vediamo Ciao